Vieni, vieni la tua appa, dai. Mattina, vieni, avanti. Vogliamo andare ancora a crescere? No, è stato un amore. Tanto perché non ne faccio la vittima vettura. I cani? Eh, no, quello che è andato ci stia attento perché... Allora, invece c'è un cartello. Eh, non fare la pepizzo. No, quello così ci devono sapere. Vado ai viccioloni. Eh, sti anni 80, vai. Bene. Ci siamo. Che potevo provare? Eh, va lì e la sta lì. Il manifesto dei veri e falsi di Moliglia. Questo è il coso. Ma lui è il coso. Ma lui non lo lascia il cane. No. Perché non fa un po' perché non lo lascia il cane. Sì. Si, si. La poteva. Ehm. Ehm. La maggiori ossa. grazie grosso modo la cicca in bocca scappa la pipì? si si vai a farlo grazie 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 non ho . che stanno in gioco panicặt 6 tu facevi il filmino eh? no no, a me ti faccio il filmino ma sei pian USA io te le accorge ma io non mi accorso, io sono tutto preso va bene perfetto ormai è tutto pazzo ormai io mi immerai Allora, poi dopo va... Non lo lascano mica questo aspetto... Non lo credo... No, no... Non lo hanno mai mai visto... No, non lo credo... No, non lo credo... Se si fa la sua ruboletta... Eh? Va piano con questa lima... No, va piano che con il suo scarpello... Se no non ci vedono... Puff! 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 Mi fa paura, eh? Puff! Puff! O sennò per cosa... Per me è un ciclo... Per me è la nuvoletta... Allora... Per me... Senti, io lavo... A me mi fa paura... Non ci casca... E tu non hai paura... Guarda... 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 Si perché... Eh... A me non ci casca... Però poi dopo si fa pervenire il coso... No... Ma l'hai fatta dopo... Quando si è riconosato pervenire... Una scansione? No... Faccio anche la fotografia... Cosa? Ora... Ma diceva una scansione... Che si vediamo, no? Si su tutto... Però io non so... Dovare entro certi limiti... No... In Photoshop... Si si... 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 Ma... Le... Le scritte si fanno... Le scritte... Con un carattere normale... Se mica bisogno di... A parte... Tu ce l'hai... Lo scanne... Io ce lo scanne... Che tu vuoi? Eh... Se tu lo sai da tornare... Tu lo dirà... E si andrà... E si fai che tu vuoi... Io... È... Grazie.